Mizzano è situé a nord di Cap dell'Euca e il conto una popolazione di 3500 abitanti. La ville di Mizzano confine con Rufano, Montesano Salentino, Tricase e Spezia e il s'attende su una plena proteggata a l'Ouest per le colline del Cerro Salentino. Mizzano è dotato di una grande aptitudine industriale, particolamente liée a la produzione di selmo e d'ameblemos in se consolidando nel territorio in tanto distrito di boi e di mobilier. La presenza di l'homme nel territorio di Mizzano è molto ancienne, come l'atteste di prezziose decoverti archeologiche. Particolamente significative sono le studi di Mizzano, di Mizzano, che prezziose la presenza di un village d'epoca medievale, poi abandone al corso dell'epoca moderna. Selon la tradizion historica, l'histoire feudale di Mizzano commence pendant la domination normande. Ma c'est entre le XVIIe e le XVIIIe siècles che ce village vit une période florissante du point de vue social e financier, avec la succession des trois familles feudales salentines, la famiglia Rubelli, la famiglia Gallone, prince di Tricase, e la famiglia Verna Leone, dernier feudataire. Le moulin a l'huile soterra, present dans le territorio, remontent au XVIIIe e XVIIIe siècles. Ils sono dei veri témoignaggi di una vive e intense actività industrielle liée alla produzione e alla vente dell'huile, che ha animato la società di Mizzano durante dei siècles. La tradizion economica se développe aujourd'hui encore dalla produzione agricola, notamment dalla cultura dell'olivier, un apre qui forme de 2060 anni verdoyanti dalla campagna di Mizzano. Au cours des dernières années, Mizzano ha vusse consolider la production dell'excellente huile d'olive vierge extra, qui ici è produita par beaucoup d'entreprises renommate, che hanno fatto della qualità e della biodiversità un marco di garantie. Il paesaggio naturale è autentico in son atteggiità. Il è entorato di muri di pierre sèche, témoignaggi di tipiche e ancienne architetture della civilizzazione agricole e pastorale del Salento meridionale. En se promenando della campagna di Mizzano, on può fare d'agrables rencontri, come le paillare, dei edifici rurati realizzati in pierre. Le paillare aveva differenza di utilizzazione. Il è stato utilizzato, per esempio, come depo o come logemon per le pesante durante i mesi più fai. A Mizzano, la tradizione commerciale si combine con l'innovazione delle moderne parche d'exposizione situate derrière l'Hotel de Ville, su la route provinciale che conduce a Tavisano. In effetti, nel mese d'octobre, Mizzano è il siège della prestigiosa Expo 2000, la foire regionale dell'industria dell'artisana e dell'agricoltura di Salento maridenale, instituendo per la promozione e la valorizzazione dei prodotti della cultura salentina. Le bote di Mizzano si combine con la tradizione dell'acquillanza salentina, che, qui, al Cap di Leuca, presenta ancora le typiche caratteristiche dell'ancienne hospitalità del Levant. del Levant. ze Grazie a tutti. Grazie a tutti.